E' il film che ha dato la notorietà internazionale ad Anna Magnani, il primo della trilogia della guerra antifascista diretto da Roberto Rossellini, vincitore di due nastri d'argento, Palmadoro a Cannes, ma il sindaco di Marcon ha deciso di non patrocinarne la proiezione restaurata organizzata da Ampis, PCGL e dall'associazione Bella Ciao. Non c'è nessuna motivazione specifica, siamo solo dell'idea che è l'amministrazione stessa che deve proporre quella che sia la programmazione e gli eventi, le cinematografie e tutto quello che è connesso. Questo non significa rinnegare, questo non significa non tener conto del passato, è innegabile come i rapporti tra me e Ampi negli ultimi anni siano difficili, quindi sinceramente e assolutamente sono condizionato in quella che è la valutazione collegata a Ampi che ribadisco si riconferma per l'ennesima volta una spalla del centro-sinistra. Una decisione che ha scatenato non poche polemiche, tanto che il senatore veneziano Martella ha presentato un'interrogazione al ministro della cultura San Giuliano e la CGL ha scritto una lettera al primo cittadino chiedendogli di riconsiderare la sua decisione. Siccome è grave questo fatto, simbolicamente grave, ho presentato un'interrogazione già questa mattina al ministro della cultura per vedere se ha conoscenza di questo fatto, se intende rispondere e soprattutto cosa intende fare per evitare che nel nostro paese si crei un clima come questo di contrapposizione, che sicuramente non fa bene alla nostra democrazia. A suo tempo la pellicola fu vietata in alcuni paesi, tra cui la Germania. Romanello ribadisce però come secondo lui si tratti di una strumentalizzazione. Sono convinto e ho avuto modo personalmente di vedere il film, lo condivido anche nei suoi contenuti, ma non accetto che venga strumentalizzata per l'ennesima volta questa filmatografia, questa proiezione, da una sinistra che ormai è priva di contenuti e deve attaccarsi strumentalmente a situazioni del passato in un momento particolare come quello in cui ci troviamo. Non è la prima volta che il sindaco è protagonista di polemiche sul generis, come lo scorso novembre, quando si è opposto alla decisione del Consiglio d'Istituto di una scuola elementare di intitolarla Tina Anselmi, o quando durante una celebrazione del 25 aprile si è tolto la fascia durante il canto Bella Ciao.